Da oggi in poi i camperisti in grande avranno un approdo sicuro in più. Nel fine settimana è stata infatti inaugurata a Rocca De Baldi una nuova area attrezzata per camper denominata l'Airone, proprio davanti all'ingresso dell'Oasi Naturale di Crava Morozzo. Realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, dell'Associazione Nazionale Produttori Caravane Camper, dell'Amministrazione Comunale e anche grazie alla promozione da parte della TL Cuneese, la nuova area mira ad essere un punto di partenza per l'incremento turistico della zona. Questo grazie anche alla sua posizione strategica. Lo spazio camper si trova infatti in un territorio fortunato a metà strada tra Cuneo e la via che va verso le Langhe, vicino alla rete autostradale che collega Torino al mare, a pochi chilometri dalle piste sciistiche. L'inaugurazione dell'area è stata accompagnata da una due giorni di festa, con visite guidate sul territorio, momenti conviviali, stand e bancarelle. Un'iniziativa molto importante, il Comune teneva molto ad attrezzare un'area efficiente che possa ospitare un numero importante di camper e di soggetti che saranno molto vicini all'Oasi di Crava. Qui abbiamo un parco naturalistico naturale che è un momento di aggregazione che porterà sicuramente anche dei benefici alla città di Rocca dei Baldi, che ha delle bellezze da far vedere. Puntare sul verde, sulla natura è una carta vincente per il turismo? Sì, però non deve essere una carta vincente per chi vuole approfittare del momento. Qui bisogna tutti i giorni pensare alla qualità della vita e all'ambiente che ci circonda e questa è un'area che fa proprio questo. Per questo territorio avevamo bisogno di un'area camper perché questo è un territorio molto frequentato dalle famiglie e molto frequentato dai camperisti. Andiamo finalmente a compiere un'opera, a definire un'area veramente interessante dove molti turisti potranno venire al sabato, la domenica e durante le vacanze per poter vedere quello che c'è di bello in questa Oasi naturalistica. In questo territorio di cose belle ce ne sono parecchie, a cominciare poi dalla posizione strategica. Assolutamente, siamo vicini alla sua strada, siamo vicini a diverse grandi città, siamo vicini alla montagna, siamo vicini al mare. Io penso che di zone più belle di queste siano difficili da trovare, quindi i turisti sono invitati a venire qua. Qua si viene per stare tranquilli, per vedere degli animali che non si possono vedere in altre parti del mondo e quindi è bellissimo essere qua. Il nostro turismo sta crescendo veramente al di là delle aspettative. Sono circa 8 milioni e mezzo i turisti che vengono tra gli italiani e sprenieri che circolano per l'Italia con questi mezzi. È un turismo molto importante per il territorio perché lascia sul territorio dei soldi, cosa che magari altri turismi, quelli tradizionali fra virgolette, potrebbero non fare. Il vostro ruolo in quest'area qual è stato? Dunque, l'Associazione Produttori Caravan e Campi promuove da 18 anni un bando nel quale premia quattro progetti, tutti i progetti che arrivano all'Associazione. Il progetto di Rocca De Baldi per il Nord è stato premiato perché è stato ritenuto il più moderno e il più tecnicamente preciso fatto per la compienza e per una serie di attività che sono collegate. Grazie a tutti.